Questa scultura lì è una sonata di Armstrong, vedi che fa, guarda, si muove, come fa sentire. Questo suono stupendo di questa tromba che era Armstrong, è un'architettura, è un ritmo archiettonico, perché è tutto studiato, perché questo è diverso da quello lì in fondo. E questo fratto è sospeso nell'aria come le note musicali. Ma questo è uno scherzo, tu sogni quello che vuoi.